Simone Forti, Bar Sound, questa sera a un certo punto ce l'avate quasi fatta, dovevate rimontare un risultato difficile, dovevate stare sopra di tre gol a fine partita per riuscire a qualificarvi e mandare fuori la Dinamo Black, ce l'avate quasi fatta a pochi minuti dalla fine, che è successo? Sì, la partita era quasi tira, insomma, gli ultimi dieci minuti, così c'è stato un calo, forse pensavamo che la partita fosse già vinta e quindi purtroppo è stato requisitato, diciamo, purtroppo ci è andata male, abbiamo fatto una bella partita comunque. Esatto, comunque avete giocato una gran bella partita, ricordiamo avete messo in difficoltà veramente tantissimo la Dinamo Black, che a un certo punto era in bambola, avete pressato, corso, tanta cattiveria, agonismo, insomma una gara giocata a mille all'ora, il risultato vi ha premiato, andate fuori, ma diciamo comunque sia a testa alta. Sì, diciamo che c'è un pizzico d'amarezza, perché comunque stasera eravamo partiti bene, la squadra si vedeva, che giocava, tutti... Ecco, magari qualche rammarico, forse legato alla prima di partita probabilmente. Sì, probabilmente alle partite precedenti, stasera diciamo che non è che ci sia di dire tanto, insomma, la squadra è giocato bene, peccato, perché poi logicamente quando penso di aver vinto la partita, poi ecco che anche nei minuti finali, insomma, il calcio è questo. Allora, cambiamo un attimo parentesi, passiamo a quella personale di Simone Forti, che in questo momento è capocannoniere del campionato di tutta la stagione, ha segnato due o tre gol, se non mi sbaglio, stasera. Cioè, da resiste soltanto queste tre partite che mancano, dai rincorritori, diciamo, che ancora hanno a disposizione un'altra due o tre partite, ecco? Sì, è peccato, perché comunque ci volevano, insomma, perlomeno un paio di partite ancora per, magari, perché in realtà... Però ancora potresti tenere duro, ecco, diciamo, perché comunque hai un vantaggio ancora di qualche gol. Sì, però sinceramente non so nemmeno di quanti... Onestamente non è che controllo le classifiche dei gol, insomma, però dai... Noi speriamo che comunque ti levi questa soddisfazione personale a fine stagione, perché comunque hai fatto una grande stagione, ricordiamo tantissimi gol, hai portato questo bar sound avanti anche con le tue reti, quindi comunque ci auguriamo che, insomma, porti a casa questo titolo del capocannoniere, senza nulla togliere agli altri. Sì, no, perché... Niente, per adesso vi salutiamo, vi aspettiamo per le prossime competizioni, per i prossimi tornei, complimenti per come siete usciti, a testa alta, e bocca al lupo per il futuro a questo punto. Grazie, grazie. Ciao Simone, grazie. Grazie. Ciao.